benvenuti a detto fatto sono valentina e sono qui con la piccola giorgia adesso giorgia cosa facciamo oggi facciamo questi coniglietti fatti col cartone per la carta igienica si e che sono dei porta matita perfetto adesso iniziamo prendendo del cartoncino per fare i piedini e per fare le orecchie è pronta sì ok tagliamoli per bene poi prepariamo anche le zampette di questi coniglietti di che colore lo vuoi fare tu giorgia arancione della carta igienica che tu dovrai dipingere e io lo faccio giallo va bene adesso giorgia dobbiamo tagliare anche i piedini aspetta che te li che te li disegno qui su questo foglio che è tutto pieno 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 di brillantini piacciono i brillantini ok ecco adesso ritagliamo questo qua e io invece lo faccio con il verde adesso dobbiamo prendere la pittura e devi dipingere il tuo rotolo adesso vogliamo incollare i piedini e le orecchie li dobbiamo incollare con questo adesso io te lo incollo te lo te ti metto la colla e tu lo attacchi al rotolo ok le orecchie devono andare esterne come questo guarda quindi l'orecchio che gira verso destra è esatto lì perfetto brava l'orecchio che gira verso sinistra lo devi mettere a sinistra adesso incolliamo i piedini adesso dobbiamo fare che manassi bravissima il nastrino eccolo giorgia l'ho trovato visto come siamo state fortunate adesso lo tagliamo facciamo i baffetti allora facciamo 1 2 3 4 5 e 6 taglia qui perfetto adesso dobbiamo però tagliare i nostri baffetti così 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 e così allora tre baffi sono i tuoi e tre e tre sono i miei ok adesso scegliamo un nasino di che colore lo vuoi fare il nasino azzurro ok metto un po di colla attacchiamo i baffetti sul nasino e tra il nasino e il rotolo adesso dobbiamo mettere gli occhi visto e lo abbiamo finito il nostro portapenne eccolo qua e visto com'è carino adesso finiamo insieme questo questi sono i nostri portapenne ultimati vuoi salutare qualcuno si e chi la mia amica ginevra la tua amica ginevra che la saluto anch'io ciao 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 allora grazie a tutti voi per averci seguito vi aspettiamo alla prossima puntata di detto fatto